Amo, qua sono arrivati gli ospiti scelto. Maglio lo conosco. Ah c'è Maglio scelto. Buongiorno. Hai portato in mangiare, guardate. Hai portato in mangiare. Ma ho portato in mangiare. Ho portato in mangiare, guardate. Ma ho portato in mangiare. Poi abbiamo quella bellissima donna da baronessa. Minchino davanti a lei. Ma oggi è proprio rosso, rosso. No, devo saltare, perché ora dobbiamo presentare Amo che non l'hanno mai vista. La mi entri, mi entri. No, mia figlia no, mia figlia no. No, sua figlia si chiama una crocifissa, però la chiamolo fissa. Allora, non so se diventerà anche lei una vittima del conte perché fa parte delle mie sorelle scelto. La sorella piccola di Nunzi. Buonasera. Buonasera, buongiorno. Buonasera, ti ho menzionato. Buonasera. Tu ti chiami? Desiree. Desiree Seidi. Lo puoi dire che poi non ci credono. Sono la sorella di Nunzi. Oh, quindi non so se farai la fine di Cosima perché Cosima proprio fu... No, la fine di Cosima la può fare perché lei mi piace. Ah, lei ti piace ancora. A Cosima proprio non esiste più. E scomparivo magari la macchina da dentro. Vabbè salutate, salutate da buon pranzo, buon pranzo. Buon pranzo, buon pranzo. Conte due, lei già sta mangiando. Perfetto. Vabbè a dopo ragazzi, a dopo. Vedrì io sono distratto mangiando, perché ora io scrivo. Vabbè Maglio poi prima che di nuovo, al solito tu sai io... Va bene. Buon pranzo. Ti devo sentire io? Io mi uccido.